segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te una persona che racconta di putin non incontrando resistenza putin si è fatto ancora più insolente non è vero che non guardi in faccia niente nessuno che nulla lo turbi e che si limiti a portare avanti la sua linea per restare in sella le guarda le guarda le faccia e come le guarda le osserva attentamente e osserva attentamente anche la nazione che ha sotto di sé e lo fa perché un cechista cioè uno sbirro della polizia segreta il suo il tipico comportamento di chi ha lavorato per il kgb lo scopo è tastare il terreno e sondare le reazioni guardare negli occhi le persone se non ce ne sono se la reazione amorfa gelatinosa tutto procede per il meglio si può continuare si può andare avanti a diffondere le proprie idee e agire come si ritiene opportuno senza troppe remore anna politescaia allora questa donna è stata uccisa nel 2006 assassinata perché era contro regime ancora oggi non sono mai stati non sono stati trovati gli assassini ma i mandanti si trovano ecco i mandanti perché si uccidono gli oppositori di putin putino conoscevo molto bene anna politkovske ho fatto tantissime interviste con lei abbiamo passato tanto tempo insieme e non penso che anna aveva la possibilità parlare con putin spesso ecco perché quello che scrive di putin secondo me non è proprio giusto anna è stata uccisa questo è stato un uccisione terribile e hanno fatto questa uccisione proprio nella giornata del compleanno di putin è stato fatto proprio per per questo chi ha ucciso sono state trovate chi è mandante è una domanda molto difficile posso dire solo una cosa in russia abbiamo avuto grandissimo problema lei all'inizio mi ha chiesto quanti persone giornalisti sono morte nel periodo di putin 31 sì 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 non controllo magari di più ma di meno ma comunque in qualsiasi caso era periodo quando c'era periodo delle guerre tra alligarchi e sappiamo che persone come berizowski mandava varie assassini per ammazzare suoi concorrenti anche dal punto di vista politico vabbè e facevano altre cose bene facciamo una cosa speriamo dire a con di risentirci magari nelle prossime settimane